amici di ciccioriccio per parlare di edo l'ultimo atto e tante altre storie matteo paulillo su ciccioriccio grazie per essere qui è tante cose tu sei sempre pieno di tante attività sempre movimento senti il matteo paulillo che conosciamo che ha quasi 28 29 anni non lo so è quel tredicenne che in qualche modo ce l'ha fatta un tredicenne di salerno che era sognatore che avrebbe voluto fare l'attore e che oggi è riuscito poi alla fine con costanza studio sai che puoi essere un ottimo messaggio da veicolare cioè centro sperimentale si studia ci si mette alla prova qualche volta si dice qualche bugia per poter avere un ruolo essere tennisti ma non lo si è affatto per i diversi vende bisogna sapersi vende però alla fine tra studio sapersi vendere e questa faccia espressiva o adesso parliamo del tuo lavoro sono stato anche fortunato è c'è da dire questo però la fortuna aiuta gli audaci non ho mai mollato molto spesso sai da fuori magari ragazzi vogliono vogliono arrivare al successo e pensano che sia una strada molto facile io non ho mai puntato diciamo al successo sempre puntato a fare le cose fatte bene poi questo successo e quindi mi abbia permesso anche di essere più tranquillo sulla mia carriera stato anche meglio però ecco il percorso specialmente se sei più sfortunato è fatto da un sacco di porte in faccia in questo settore questo secondo me sempre bene sottolinearlo però bisogna avere la resistenza per andare avanti credere in se stessi e non farsi condizionare da tutto quello che ti circonda poi avere una certa personalità no per poter affrontare davvero tutto il discorso e poi una buona dose oltre alla fortuna ovviamente perché è anche la preparazione e quindi tu hai scelta condizione insomma sai come stare sul palco i tuoi live quelli che ci sono stati diciamo all'inverno scorso hanno fatto proseliti di di tutto critica pubblico perché ti riconoscono proprio questa tua capacità di stare sul palco di interagire diventare tutt'uno col pubblico che è una cosa come dire quasi inaudita no sì mi sento un po a casa lì è un po il mio mondo ieri ho fatto questa presentazione delle p in un piccolo locale a roma che ci teniamo ad avere un contatto molto diretto con i fan e siccome ho fatto duemila cose poi c'è stato anche pasqua di mezzo non è che l'avevo preparata diciamo questa cosa quindi in una decina di minuti di prove ho un po impostato quello che poteva essere l'interpretazione dei brani e poi una volta che sono sul palco lì a contatto con i fan tanti di loro ormai li conosco da anni e mi sento un po come se l'avessi invitato nel salotto di casa mia è bella è una cosa intima però pubblica è inspiegabile questo tuo atteggiamento nei confronti della della tua arte insomma ma a questo punto devo fare una domanda tra le tante cose di cui si parla di te è ovvio no te lo dicono tutti e io ti chiedo quindi casatiello o pastiera c'è più dolce salato perché era più pastiera più dolce quindi la domanda come la fammia mamma vedi vedi quindi c'è qualcosa senti matteo ti volevo dire appunto di edo ultimo atto è un ep che praticamente parte da edo l'altro ep di 23 anni fa che poi ha avuto un'evoluzione come personaggio perché parliamo di una cosa apro e chiudo parentesi io ho conosciuto prima matteo paolillo e poi edoardo conte quindi voglio dire è una cosa che te lo volevo dire qualche modo si un processo inverso che comunque mi è andata bene lo stesso perché non c'è ecco lo dico a tutti quelli che hanno mai visto pochi mare fuori può essere anche questa intervista un'occasione per vederlo poi all'opera quindi ti stavo dicendo c'è questo personaggio che cresce e tutti parlano di questo cerchio che si chiude questo famoso cerca adesso non ti voglio dire assolutamente nulla certo il tuo personaggio benissimo non sta quindi non cerchi alla testa e quindi e quindi senza chiederti nulla perché hai sentito l'esigenza di chiudere un cerchio ma sentivo l'esigenza di trasformare in musica quelle che sono state le sensazioni degli ultimi anni il mio lavoro emotivo sul personaggio e raccontare un po la mia terra napoli che la città che mi ha accolto comunque negli ultimi anni e anche un po la trasformazione musicale che sto vivendo tra roma e milano quindi un po è stato un po un attraversare lo stivale anche con la musica ma anche con con i tuoi ospiti con gli ospiti che sono in questo in questo ep che insomma spaziano tra un altro protagonista di mare fuori race tra l'altro è un come dire un momento davvero molto 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 triste per lui per cui davvero davvero vicini e poi che è che naturalmente è di un altro di un altro pianeta direi quasi perché lontanissima milano poi c'è le dia insomma ci sono questi amici che ti supportano come in passato clementino e tanti altri come hai fatto a creare queste collaborazioni e perché proprio con loro ma diciamo che le collaborazioni come magari è stata con clementino nascono un po non dico per caso però con le persone che conosco e conosciuto che il successo ha dato modo di conoscere in questi anni luca e dialog conosciuto eravamo in aeroporto per sanremo nel 2022 ci siamo presentati ed è una persona carinissima quindi si è creato un bel legame e ci siamo ritrovati in studio poi appunto stavo preparando questo progetto ci tenevo ad averlo poi raiz appunto l'ho incontrato sul set ed è un artista che stimo tantissimo e quindi anche lui ci tenevo ad averlo in questo progetto a gue sono arrivato tramite don jo perché don jo l'ho conosciuto al giffoni film festival da qualche anno fa e anche lui è una persona super carina siamo sempre rimasti in contatto ci siamo visti spesso a milano quindi quando io stavo per chiudere l'epì lui è passato in studio ha mandato dei consigli super preziosi infatti mi ha fatto super piacere e poi c'era questo pezzo ha detto vada qui gue ci sarebbe benissimo l'ho buttata lì sì così sorridere e poi effettivamente mi ci ha messo in contatto e quindi abbiamo fatto questo pezzo insieme com'è cambiata la tua carriera in questo in questi pochi anni in realtà come si è evoluta tanto da come dire affermarti in due settori abbastanza forti insomma in italia no diciamo che paradossalmente c'ho meno preoccupazioni ma in realtà più pensieri perché ci sono più cose a cui badare però ho costruito un team molto forte di cui mi fido tanto quindi diciamo che il mio obiettivo è sempre stato quello di dedicarmi solo all'arte di essere un artista specialmente quando sei un emergente invece ti dedichi a tante altre cose a cui non vorresti dedicarti e quindi man mano diciamo ci sono poi cose che delego al mio team e quindi sempre di più riesco a dedicarmi solo alle cose che voglio creare e meno le preoccupazioni di dove dove suonare dove distribuire la musica fare promo insomma ti piace più scrivere in realtà ti piace più come dire mettere diciamo che all'inizio quando ero da solo dovevo fare un po il lavoro di tutti dovevo farmi da manager dovevo farmi da tour manager dovevo fare un po tutto invece adesso diciamo che è diventato più semplice nel senso che ho delle persone che mi aiutano e quindi questo mi permette di dedicarmi di più a quelle che sono le mie idee sto producendo tantissime cose sono contento di cui sei in attesa visto che come diceva mastroianni ti pagano per aspettare sei in attesa di qualcosa gli attori è mara ci pagano per aspettare diceva mastroianni in realtà io sono un attore atipico perché mentre gli attori passano lunghe attese che in effetti e così ci pagano per aspettare nel senso che sul set dieci ore di set magari passi quattro ore in camerino magari passi un quarto d'ora tra l'inquadratura e l'altra proprio mastroianni lavorava in pellicola quindi le attese erano anche più lunghe però io ho fatto di questa attesa un'arte in qualche modo perché la maggior parte delle canzoni l'ho scritta in camerino e poi negli ultimi due anni e mezzo ho scritto anche un romanzo che esce il 16 aprile a ben così rivedremo ci rivedremo e dai questa cosa mi piace e mi piace perché sono curioso anche di sapere come scrivi delle lunghe cose non solo i pezzi che che canti bene quindi mi fa molto piacere o che ti devo dire matteo sono proprio contento ne valsa la pena aspettare come dire questa intervista sono sono contento e naturalmente ricordiamo ha fatto al momento giusto da ha fatto al momento giusto come dire io ho conoscenza di te e tu maggior consapevolezza di quello che che sei in questo momento per cui ci sta ci sta proprio ti ringrazio per essere stato nostro ospite radio le altre noi siamo cicciorizzo un saluto da matteo paolillo cicciorizzo